La Regione Calabria invita tutta la popolazione di età complessa dei 50 e 69 anni, uomini e donne, ad effettuare la ricerca del sangue occulto nelle feci, che è lo screening per il tumore del colonretto. Il tumore del colonretto rappresenta oggi la seconda causa di morte sia negli uomini che nelle donne e può essere prevenuto attraverso un esame semplice che può essere fatto a casa, gestito quindi tranquillamente e con il prezioso supporto dell'Avis. L'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e l'Avis provinciale di Catanzaro già da tempo hanno unito le forze per promuovere la cultura della prevenzione. In particolare si riparte ora con la campagna dedicata alla prevenzione del tumore del colonretto rivolta ai cittadini dei comuni di Montebaone e Montauro, di età compresa tra i 50 e i 69 anni, che grazie al supporto della locale sezione Avis riceveranno una comunicazione per ritirare gratuitamente un kit per il test del sangue occulto nelle feci, per individuare eventuali tumori o polipi e di intervenire quindi precocemente. I nostri volontari porteranno le lettere direttamente ai destinatari e cercheremo di parlare con più persone possibile per spiegare al meglio il progetto. Gli obiettivi sono quelli di arrivare più velocemente possibile alla popolazione, visto che abbiamo la fortuna di avere la presenza delle Avis in tutti i comuni della provincia, per noi è più semplice consegnare le lettere d'invito, sensibilizzare la popolazione, cercare di coinvolgere medici di base, sindaci, quindi mettiamo al servizio il nostro aspetto quotidiano, dell'attività quotidiana che facevamo come Avis al servizio della sanità pubblica. Rossella Galati per la CNews 24.